Il Signore è risorto, è veramente risorto. Così gli antichi cristiani si salutavano nel giorno della Pasqua, che noi celebriamo, certo nel nome e nel segno anche di questa pandemia, ma anche nella certezza. Gesù, nostra speranza, è risorto. Il modo abituale con cui celebramo la Pasqua è quello naturalmente di chiedere al Signore la gioia, la pace, la speranza, la serenità, la salute e la sicurezza del futuro. E così i Vangeli certo ci guidano in questa chiave di lettura, pensiamo al capitolo al Vangelo di Giovanni, che leggiamo nel giorno di Pasqua, capitolo 20, e poi quello della sera di Luca, il famoso episodio della cena di Emmausso. Giovanni sembra quasi rileggere con la prima comunità dei credenti questa certezza. La Pasqua è come una liturgia, si vede per credere, come ha fatto Pietro di fronte alle bende. Non basta vedere le bende, bisogna vedere come vediamo le bende, come vediamo questa realtà della risurrezione. È il famoso brano della cena di Emmausso, che gli esegeti ci dicono di leggere in quattro fasi, gli attori sconsolati vanno via da Gerusalemme, la dichiarazione dei discepoli, credevamo che fosse lui, eppure le donne sono venute, certo a dirci che era risorto, ma non è successo nulla. La lettura di Gesù, dell'episodio, e poi il riconoscimento nella scrittura, Gesù annuncia loro tutto quanto si riferiva a lui, e nello spezzare il pane. Solo allora noi, come i discepoli di Emmaus, saremo capaci di ritornare sui nostri passi, di rileggere la nostra storia, e annunziare ai fratelli che il Signore è veramente risorto. Mi piace anche dare un'altra chiave di lettura della risurrezione, forse un po' anticonformista, non lo so, ma credo nella linea evangelica. Si tratta di due particolari, il Vangelo di Giovanni che abbiamo ora ascoltato, quando Maria di Magdala dice ai discepoli hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno portato. E poi quello che i capi dei giudei dicono alle guardie quando gli dicono che la pietra era stata arrotolata, Dichiarate, i suoi discepoli sono venuti di notte, l'hanno rubato mentre noi dormivamo. Ecco, la Pasqua la possiamo leggere anche in questa maniera. Non sono gli altri che hanno rubato Gesù. Maria di Magdala lo incontra, ma siamo noi, tutte le volte che rinneghiamo la presenza di Cristo nella nostra vita, tutte le volte che noi affidiamo ai social le nostre emozioni e non sappiamo leggere la vita alla luce della parola di Dio, rubiamo il lì corpo, cioè la presenza di Cristo. Noi, credenti, che pretendiamo una Chiesa senza Dio, una liturgia senza la parola, in cui emerge il protagonista del sacerdote, perché no, anche se è belloccio, e forse attira anche di più della stessa parola. E' l'esempio dei Santi che la Chiesa ci propone, Corla Cutis, certo questo giovane protettore dei social, ma poi abbiamo fatto la beatificazione tutta in messa gregoriano, abbiamo tirato fuori il cuore per portarlo in giro come si faceva nel Medioevo, oppure Rosario Livatino, che diceva che non bisogna essere soltanto credenti, ma credibili, ed è triste vedere le dispute su dove collocare le reliquie, che per il momento rimarranno nel cimitero, questa contesa fra la diocesi e la città di Canicattì. Ecco, una morale ridotta a moralismo. Fa più scandalo in Italia, due persone che si baciano in una stazione vengono picchiate e che non hanno la violenza sulle donne, la violenza sui minori. In un paese del genere, ha detto qualcuno, non c'è futuro per nessuno. C'è qualche laico, allora che ci richiama. Poi vediamo i giudici e gratteri, che ha scritto per famiglia cristiana che Pasqua per noi può rappresentare questo uscire fuori dalla zona grigia. Ecco, Pasqua, chiamare le cose con il proprio nome, perché, come ci insegnava il grande Cardinale Pappalardo, l'omertà non è un'attitudine dei cristiani. Allora che la Pasqua ci insegna ad essere testimoni credibili. a chiedere al Signore la forza dello Spirito Santo per essere come discepoli, capaci di sapere portare il messaggio di Gesù fino ai confini del mondo. Ma prima di avere questa pretesa, portiamo, ricollochiamo Cristo nella nostra vita, nella nostra storia, nelle nostre comunità. Auguri a tutti. Il Signore risorto, veramente risorto. alleluia, alleluia, alleluia. Per un visto, Grazie per la visione!